Ciao ragazzi! Il nuovo video è per la collaborazione di un'azienda che si chiama Nd24, che ringrazio, che mi ha dato la possibilità di scegliere un prodotto e quindi ho scelto questo smalto qua. È un'azienda che vende prodotti per la manicure, quindi tutto quello che raggruppa la manicure tra dal gel, lo smalto e tutti gli accessori. Questo smalto devo dire che è ottimo, questa categoria di smalto di questa azienda è ottima, molto lucido già dalla prima applicazione, si asciuga velocemente, ha un bel colore pieno. Non ho avuto problemi nella stisura, questo è il risultato di quattro giorni, come vedete, vedete, qui si è sbeccato dopo quattro giorni, però dopo quattro giorni, voglio dire, per essere uno smalto low cost, sono più che contenta. Perché comunque, è molto lucido, già senza top coat, si asciuga velocemente, io poi aggiungo un top coat che è questo qui, che è super, io ve lo straconsiglio questi top coat qui che escono insieme agli smalti della Kiko, e perché me lo fa durare ancora di più, perché comunque me lo fa lucidare ancora di più, ed è comunque un top coat a turbo, turbo dry, quindi mi sono veramente trovata un amore. Questo smalto davvero mi è piaciuto tantissimo, e io vi lascio comunque sotto nell'info box il link dell'azienda, del sito, per farvi dare un'occhiattina, perché comunque tutti i prodotti veramente appurissimo. Io ringrazio ancora l'azienda, per avermi omaggiata, e vi lascio comunque nell'info box anche l'indirizzo del blog, che io ho fatto appunto il post, che vi canta direttamente al blog, se volete andare a leggere qualche informazione in più. Io spero di essere stata utile, ringrazio ancora l'azienda, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!